Io, che amo l'arte contemporanea, do sempre alla creatività una forma, ispirandomi a Kandinsky, un grande artista di inizio secolo. Lui rappresentava la società come una piramide, io rappresento la creatività come una piramide, dove nel punto più alto di questa piramide c'è il mio pensiero, pensiero che è unico e irripetibile. Quindi questa idea della piramide come appunto nel punto più alto della creatività, quindi nel punto più alto c'è il mio pensiero, l'idea, il sogno, la realizzazione di quello che è dentro alla mia testa, alla mia cultura, che diventa unica, irripetibile. Come tutti gli artisti, o i cuochi, o chi fa un mestiere creativo, è la ricerca del proprio segno. Quando vedi una Ferrari, dici quella è una Ferrari, quando vedi una Lamborghini, dici quella è una Lamborghini, quando vedi un piatto di Massimiliano Alaimo, dici quello è di Alaimo, quando vedi un piatto dell'Osteria Francescana, dici questo è fatto all'Osteria Francescana. Questo è una cosa fondamentale, è la ricerca, è il sogno di ognuno di noi, essere riconoscibili ed essere diversi dagli altri. Dunque, proprio per questo, io spingo i giovani a studiare, ad approfondire, a non aver fretta di entrare nelle nostre cucine, perché dopo diventa complicatissimo approfondire argomenti. Quindi la mia è veramente una spinta a ricercare ed approfondire la cultura.